Oltre alle attrezzature agricole sono bruciate anche quattro automobili di cui ben tre di interesse storico. I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 23 per domare le fiamme che avvolgevano un casolare in aperta campagna a Caltana, in comune di Santa Maria di Sala. Le operazioni di spegnimento della struttura di oltre 150 metri quadri disposti su due livelli, un tempo un vecchio fienile, si sono concluse alle tre di notte. All'interno del casolare erano anche presenti delle bombole, nessuna persona è rimasta ferita. Ma sì, c'è il dispiegamento di forze dei vigili del fuoco arrivati da Mira, Mestra e Padova con i volontari di Mirano, con due autopompe, due autobotti, l'autoscala, il carro NBCR nucleare biologico-chimico-radiologico e 16 operatori coadiuvati dal caposervizio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco che hanno posto la struttura sotto sequestro.